Bergamaschi nasce nel 1919, nasce come azienda produttrice di bobine per moto. Nel corso degli anni, a causa di una concorrenza sempre maggiore dei paesi dell'est, si è deciso di cambiare e di passare da una società produttrice a una società distributrice di marchi. Il primo marchio con cui abbiamo collaborato è stata la CEV della Fratelli Pagani, dopodiché negli anni è stata giunta la NGK. NGK, che è ancora tutt'oggi il nostro marchio più importante, ci ha permesso di crescere molto in un settore, quello della moto dove siamo sempre stati, di farci conoscere molto bene e ci ha dato la possibilità, essendo un marchio di altissima gamma, di introdurre al suo fianco altri marchi di gamma molto alta. Ultimamente abbiamo anche introdotto un marchio nostro che si chiama BKR, che è un prodotto che sta sviluppando molti accessori e molti prodotti da tuning che verranno distribuiti sempre di più in Italia ma anche nel resto dell'Europa tramite una rete di distributori che stiamo creando in questi giorni. Il mercato italiano, a differenza di mercati esteri come possono essere quello, ad esempio, tedesco, francese o olandese, ha molte meno richieste da parte di enti certificatori in vari settori, ad esempio il primo che mi viene in mente sono i lucchetti. In Francia, in Germania, per vendere un lucchetto i lucchetti devono aver passato dei test, in Italia invece si può vendere qualsiasi tipo di lucchetto. Questo fa sì che in Italia i lucchetti più venduti siano lucchetti cinesi che tante volte non offrono adeguata protezione alle moto. Noi per scelta, ma non solo su lucchetti ma su tutti i prodotti, trattiamo solo invece prodotti di alta gamma, nel caso dei lucchetti e della Kryptonite, prodotti che siamo certi possano garantire all'utilizzatore l'adeguata sicurezza per un bene così prezioso per loro, perché tutti noi sappiamo che la moto è un bene che crea un rapporto molto forte con l'utilizzatore. Schubert è un produttore di caschi con altissima tecnologia che punta tutto sulla qualità e sul comfort dell'utilizzatore. Il suo mercato è al 99% fatto sui caschi da moto, producono anche caschi, ma che non vendono, caschi da auto che non vendono, ma che riservano solo alle scuderie di Formula 1 e recentemente l'incidente di massa ha dimostrato al mondo intero cosa vuol dire avere un casco sicuro sulla testa. Okiami e BKR sono due marchi fatti su nostre specifiche in varie parti del mondo, hanno anche loro come comune denominatore quello di essere prodotti di altissima qualità, infatti per la loro produzione ci avvaliamo esclusivamente degli stessi produttori che poi forniscono le case madri nel primo impianto. quindi siamo sempre certi della qualità e della sicurezza che offriamo sul mercato. NGK è uno dei nostri vanti anche perché su quasi tutte le moto circolanti in Italia ci si trova sempre una candela NGK che noi distribuiamo nel settore della moto da ormai 45 anni. quindi siamo sicuri di essere stati presenti un po' nella vita di tutti i motociclisti italiani. Se volete poi avere più notizie su tutti i nostri prodotti e sulla gamma potete sempre cercare le notizie sul sito www.bergamaschi.com www.bergamaschi.com